Musica L'altra volta avevo segnato, sicuramente ci voleva, era un po' che non segnavo, siamo molto contenti, stiamo lavorando duro e i risultati stanno arrivando. 4 vittorie, 11 punti, un momento favorevole, forse è un peccato aver preso questi due gol nel finale di partita. Sì, magari ci siamo fatti un po' prendere 5-0, abbiamo detto abbiamo un po' calmato il gioco, però comunque 5-2 va sempre bene, l'importante era vincere. Hai avuto il piacere di venire a Varese e vedere il finale di Coppa Italia, innanzitutto ti chiediamo com'è il palaghiaccio, come ti è sembrato l'ambiente e tutto quello che hai visto? Sì, era la prima volta che andavo lì, è stato molto bello, non mi ricordavo, cioè mi ricordavo tutt'altro, è sicuramente una grande emozione ritornare lì dopo tanti anni, è nata un po' lì tutta la mia carriera diciamo, ha pure vinto il Varese, è stato molto molto bello. Oggi ho avuto il piacere di conoscere i tuoi genitori e anche tua nonna che è venuta a assistere la partita, oggi è la sua compleanno, gli dedichi il gol? Sì, grazie alla mia nonna, sicuramente il gol ci voleva, anche grazie a lei, sono contento e gli ho fatto un bel regalo di compleanno. Ti prepari in vista di queste ultime partite e poi per andare con la nazionale? Sì, sono stato convocato, adesso il torneo è a Bolzano, 4 nazioni e sicuramente spero di fare bene anche lì. Sì, sicuramente era importante, penso che se mi ricordo bene in stagione non era ancora successo, quindi per noi sicuramente è fondamentale incamerare tutti questi punti, adesso la classifica è ancora corta, quindi dobbiamo solo continuare così. Oggi avete segnato in tutte e quattro le linee, questo significa che non c'è soltanto la prima linea ma anche la seconda, la terza e la quarta possono dare il suo rendimento? La mia linea non l'ha segnato, però sì, è importante che sappiamo tutti l'importanza di avere un roster lungo con ogni linea che può contribuire, quindi sì, c'è senz'altro. La presenza di Slegg ne importa, anche oggi è stato premiato come migliore in pista, vi dà garanzie, non che il portiere finlandese fosse da meno? La Slegg è in un momento di forma strepitosa, ci sta aiutando tantissimo a vincere partite, gran parte merito suo di questo filotto di quattro vittorie consecutive, ripeto, è anche una squadra vincente, è anche importante che abbia la possibilità di cambiare, di cambiare. Abbiamo due ottimi portieri, in questo momento Slegg sta parlando benissimo, toccherà magari un futuro amico, siamo sicuramente convinti della qualità dei nostri due portieri. Siamo curiosi di vedere anche questo Lugano domenica sulla pista di Rappersfield, che attualmente sembra la squadra più in forma del momento. Noi prendiamo una partita alla volta, siamo riusciti a vincere anche contro la capolista a Ginevra, quindi sicuramente non siamo preoccupati di andare a Rappersfield, abbiamo immenso rispetto per loro, sono una squadra che davvero gioca bene, quindi dovremo solo portare il nostro miglior gioco e concentrarci su di noi. E' l'ultimo che è lavorativo perché dal lunedì prossimo vado a meritare acquiescenza dopo quasi 40 anni di lavoro, è stato bellissimo, è una professione che consiglio a tutti e tantissimo naturalmente al seguito del hockey club. Ci puoi parlare un po' della tua storia, un po' da dove sei partito, per chi scrivevi e per chi è collaborato? Allora io devo dire la verità, ho fatto la magistrale per diventare maestro di scuola, non ho mai fatto un minuto di scuola tra l'altro, però mi è sempre piaciuto il giornalismo. La prima volta che sono andato in trasferta, ho mandato il giornale del popolo, era nell'80-81, sono andato a vedere il Lugano a Erisau, era l'anno in cui Lugano lottava per salire in A insieme all'Ambri, poi operazione riuscita, tutte e due le squadre sono salite nella massima serie. Questo era una delle prime cronache, ero praticamente stagiaire, allora si diceva stagiaire, credo apprendista, ed era un altro mondo, era tutto diverso, c'erano le macchine per scrivere, non c'erano i telefonini, per poter mandare i pezzi bisognava litigare con i giornalisti tedeschi per il telefono o per il fax, quindi puoi capire qual era il contesto, però bellissimo, veramente bello perché è lì che cresci, che impari il mestiere. Tu hai visto vincere tutti i titoli del Lugano, avrai visto tanti campioni sia a Lugano che a D'Ambri e così, sei rimasto poi in buoni rapporti con qualche ex giocatore? Una cosa, stasera sono venuto un po' prima perché vorrei andare a salutare sia Numelin che Ivano Zanatta, che facevano parte di quella squadra per me la più forte di tutti i tempi, che ha vinto ai noi l'ultimo titolo del Lugano già 17 anni fa, quella resta per me la squadra più forte e che mi ha regalato maggiori emozioni.